Ehi, sono Pazzox e ben ritrovati in un nuovo video. Finalmente ragazzi, eccovi la prima immagine del primo teaser della stagione numero 7. E prima che dite, è un cavaliere di ghiaccio? Secondo me no. Avete presente che assomiglia a una delle skin più comprate in Fortnite Battle Royale? Non ricordate? Concentratevi un pochino. Ebbene sì, proprio Raven. Questa skin fa pensare a un Raven ghiacciato, con tanto di superkorn, ma ovviamente con un design ben diverso e con una specie di aurora boreale all'interno del suo volto. Un po' simile a Galassia. Magari è tutta una mia immaginazione, ma mai dire mai. I teaser sono sempre ben strutturati, soprattutto quando c'era la maschera di Aladariva e si vedeva in effetti la maschera di Aladariva. Ma se vedete bene l'immagine, forse ci sarà anche lo snowboard. Come potete vedere, alla nostra destra, guardando l'immagine, possiamo notare che c'è proprio un personaggio che sta sciando come se non ci fossero domani. E da lì, zoomando, si può notare che è magari una skin femminile o forse un'altra skin che farà parte del pass battaglia. Una cosa è certa, al momento questa skin assomiglia tantissimo a Raven. Oppure alla fine è soltanto una metafora a questa immagine che vuole spiegarci che in sé questo è l'iceberg. Ma non credo proprio. Il creativo direttore di Fortnite Battle Royale, che sta lavorando senza stop, ha una skin in particolare, proprio con la musica del Sax Guy. Questa cosa fa capire che forse ci sarà una skin ispirata al Sax Guy? Spero di no. Per quanto riguarda l'argomento di Pinnacle Distrutta, ricordo che sempre lui twittò un post con scritto Rito Tilted. Cosa vorrà far capire che forse era già un grandissimo spoiler da tanto tanto tempo? Ovviamente ragazzi vi ringrazio sempre per il supporto che state dando a questo canale. E noi come sempre ci vediamo domani con il secondo teaser, quindi non mancate. Che dire, noi come sempre ci vediamo con il docissimo e carnissimo. Grazie a tutti! Grazie per la visione!